ma tu sei l'unico a fallare mai vendita no non c'è di altro? Valeria però anche Valerico cosa è vero? Valeria? si no è sceso no è svegliato fu guarda 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 cosa lì sono guarda 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 guard un po' si sono solo dentro qua ma che cosa? Dani! Dani! Dani c'ho 12 kill top 3 Andre puoi abbassare un po' il le orecchie mie aiuto ma dove stanno? ma scorrate and run ready poi siamo in finale Andre fai il balletto and run ready Andre che c'è? fai il balletto riu ron rini aspetta c'è un cellulare io sono a real su ron rai perchè abbandonato? ragazzi ragazzi dai mettiamoci le scarpe no! ora no! dai! 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 ma io ho paura vabbè dai c'è un altro tempo che finisce una partita meno un po' di finita mi hai lotto il cazzo no no vabbè